Quando si tratta di aiutare una vittima di arresto cardiaco improvviso, non tutti i defibrillatori automatici esterni DAE sono uguali. Il DAE DEFI 5S assiste i soccorritori con istruzioni in tempo reale e istruzioni di F-acile utilizzo. Il DEFI 5S di Meditech, raccomandato dai medici professionisti, è dotato di un pulsante di modalità pediatrica per ridurre la potenza ai bambini ed evitare ustioni al muscolo cardiaco. Gli indicatori LED aiutano a seguire le istruzioni infrarossi per il trasferimento dei dati al computer. Due lingue a scelta. Cinque livelli di volume per ascoltare chiaramente la voce e utilizzare il dispositivo ovunque. Il DEFI 5S è dotato di un autotest giornaliero, settimanale e mensile che consente di stabilire se il DAE è pronto per l'uso. Viene fornito con una borsa per il trasporto del DAE che consente di utilizzare il dispositivo senza estrarlo. Dispone di uno scomparto per il kit di pronto soccorso e di uno scomparto sicuro per la presa dell'elettrodo del DAE per proteggerlo dall'acqua e dalla polvere, nonché di segnali riflettenti per l'uso notturno. Il software per computer DEFI Soft, fornito con il dispositivo, visualizza informazioni di stato accessibili durante l'uso del DEFI 5S, come l'ora dell'evento, la descrizione e l'elettrocardiogramma del paziente, ma anche la lingua dei messaggi e il volume possono essere modificati tramite il software per computer. Diamo un'occhiata al DAE DEFI 5S. La porta di comunicazione, una porta a infrarossi per la trasmissione dei dati al PC. Indicatori LED di stato, aiutano a seguire le istruzioni. Pulsante d'urto, viene richiesto di premerlo quando è completamente carico e lampeggia in rosso. Alto parlante, per le istruzioni di guida. Pulsante modalità, per selezionare la gamma di potenza per la modalità bambino o adulto. Per trasportare comodamente il DAE e impugnarlo con F-acilità. Pulsante di accensione e spegnimento, per accendere e spegnere il dispositivo e collegare il DAE al PC. Presa per elettrodi, per collegare gli elettrodi al DAE. Istruzioni visive, per guidarvi e aiutarvi passo dopo passo. La custodia del dispositivo, rigida, ha un'elevata robustezza, è leggera e garantisce elasticità e resistenza. Se una persona è incosciente, bisogna innanzitutto verificare se respira e risponde agli stimoli. Se non risponde, è necessario chiamare immediatamente il numero del servizio di emergenza e indicare il caso e la sua posizione. Prestare attenzione al movimento del torace e ascoltare il suono della respirazione, quindi sentire l'aria che esce dalla bocca. Controllare il polso dell'infortunato appoggiando l'indice e il medio sul collo vicino alla trachea o mettendo le due dita tra l'osso e il tendine sopra l'arteria radiale. Iniziare la rianimazione cardiopolmonare il prima possibile, perché dopo dieci minuti il danno cerebrale è irreversibile e si sa che la salvezza della vittima è davvero nelle proprie mani. Ci vuole un po' di tempo per far muovere il sangue durante la rianimazione cardiopolmonare. Pertanto, è molto importante spingere con forza e velocità per aumentare la pressione e far affluire il sangue al cervello. Spingere ad almeno 5 centimetri di profondità per comprimere il cuore e far defluire il sangue. È necessaria una pressione da 100 a 120 volte al minuto per far fluire il sangue. Preparare due respiri per salvare la vittima. Trattenere il primo respiro per un secondo e osservare se il torace si alza. Se il torace si alza, somministrare un secondo respiro. Se il torace non si alza, ripetere l'inclinazione della testa e il sollevamento del mento, quindi erogare il secondo respiro. Un ciclo consiste in 30 compressioni toraciche seguite da due cicli di ventilazione. Fare attenzione a non fare troppi respiri e a non respirare troppo forte. Continuare le compressioni toraciche per ripristinare il flusso sanguigno. 30 compressioni toraciche seguite da due ventilazioni. Una volta acceso, il DAE-DEFI-5S inizierà a parlare seguendo le indicazioni vocali. È necessario selezionare la modalità, per adulti o pediatrica. Si dovrà posizionare il cuscinetto sul petto nudo del paziente come indicato sul foglio di plastica. Si dovrà quindi stare lontani dal paziente e non toccarlo mentre il DAE-FI-5S analizza il ritmo cardiaco. Togliere gli indumenti dal petto del paziente. Aprire la confezione degli elettrodi. Rimuovere gli elettrodi dalla pellicola protettiva. Se la vittima è un adulto. Posizionare l'elettrodo sulla parte superiore destra del torace e sulla parte inferiore sinistra del torace. Esistono due modi per applicare l'elettrodo su un bambino. Se il corpo del bambino è grande. Posizionare l'elettrodo sul posto dell'adulto, se i due elettrodi non si toccano. Se il corpo del bambino è piccolo. Posizionare un cuscinetto al centro del torace e l'altro sulla schiena, se il corpo del paziente è piccolo e i due elettrodi si toccano. Se il ritmo ha questo aspetto, si capisce che il cuore non sta più pompando sangue in modo efficace, è un ritmo letale e deve essere interrotto rapidamente. Quando il defibrillatore automatico DeFi 5S analizza il ritmo cardiaco e giunge a questa conclusione, vi chiederà con un comando vocale di premere il pulsante rosso di shock. Il dispositivo DeFi 5S invia una corrente elettrica attraverso il cuore e viceversa. Lo scopo dello shock è quello di arrestare completamente il ritmo cardiaco scoordinato per un tempo molto breve e dargli la possibilità di tornare alla normalità. Fate del vostro meglio e non arrendetevi. Il defibrillatore automatico esterno DeFi 5S vi offre l'opportunità di salvare la vita di una persona. DeFi Soft Il defisoft è un software per computer che supporta la ricezione dei dati inviati tramite infrarossi. La lettura delle onde elettrocardiografiche, l'impostazione della lingua e del volume vocale del defi 5S e il salvataggio dei dati di registrazione. La pressione prolungata del tasto ON-OFF accende il sensore a infrarossi. Dopo aver selezionato la lingua di DeFi Soft, inserire il numero di serie del dispositivo e premere a lungo il pulsante di accensione per attivare il sistema dati di DeFi Soft. DeFi Soft visualizzerà le informazioni di stato registrate durante il funzionamento di DeFi 5S, tra cui il tipo, l'ora dell'evento, la descrizione e le onde dell'elettrocardiografo. Il guadagno della forma d'onda dell'elettrocardiografo può essere impostato su 5 mm, 10 mm o 20 mm. La velocità della forma d'onda può essere impostata su 12,5 mm, 25 mm e 50 mm. È inoltre possibile stampare e salvare i dati.